Oroscopo di Paolo Fox e Branco di oggi, 9 aprile 2023 Il segno fortunato di oggi. Scopriamo insieme le previsioni di questa giornata su amore, lavoro e fortuna per ogni segno zodiacale. Ariete. Oggi è uno di quei giorni che possono essere definiti a cuore aperto. Ariete, non hai motivo di nascondere i tuoi sentimenti verso le persone che ami e alle quali hai molto da dare. I tuoi sentimenti sono in pieno svolgimento e ti spingono a offrire le più calorose manifestazioni di affetto. Che non sempre ti viene naturale. E non esitate a chiedere una giusta remunerazione, con umorismo, ovviamente. Questo può essere un giorno gioioso e divertente per molti Ariete. Pertanto, dovresti goderti attività sociali, gite divertenti, tempo con i bambini, eventi sportivi e opportunità per esprimere le tue capacità creative. Se ci pensi troppo, rischi di perdere le migliori opportunità nella tua vita amorosa. Dubbi inutili stanno mettendo bastoni nelle ruote. Dovresti fare uno sforzo per capire. Molte porte si apriranno se lo fai. Toro. Oggi dovreste aspettarvi di ricevere una lezione di umiltà. Toro. Potresti essere chiamato a condividere le responsabilità di un progetto che fino ad ora avevi fatto da solo. Oppure ti potrebbe essere chiesto di condividere il tuo bellissimo ufficio per soddisfare le esigenze della crescita della tua attività. Potrebbe essere che all'inizio non andavi molto d'accordo, ma la parte positiva sarà che andrai molto d'accordo con questa nuova, e invadente, persona. Vuoi rafforzare le tue amicizie e metterai molto del tuo impegno ed energia nel farlo. Inizierai inviando altri inviti, a una riunione a casa tua o nel tuo posto preferito. Grandi soddisfazioni stanno arrivando. Troverai un supporto positivo per portare a termine i tuoi progetti. Toro. Un'ondata di passione continua ad arrivare. Ti dà qualcosa per pensare profondamente a ciò che stai cercando. Sei sulla strada giusta e la risposta arriverà a giugno. Gemelli. Oggi siete ansiosi di illuminare gli altri su qualcosa. È giunto il momento di prendere una decisione importante. Il tuo senso interiore di libertà ti sta guidando sulla strada giusta. Gemelli. Faresti bene a combattere la noia che te la sta portando via e rinfrescare le tue idee. Ti senti come se non avessi abbastanza controllo sulla tua relazione o sulla direzione della tua vita amorosa. Non seguire il flusso, c'è molto che puoi imparare dall'inaspettato. Molto probabilmente, oggi dovrai ricorrere alla parte più potente in te. Le situazioni che affronterai richiederanno sia una certa intuizione che una forza quasi virile per superarle. E questo equilibrio che dovrai trovare ti lascerà esausto alla fine della giornata. Gemelli. Dovrai andare più in profondità in te stesso per non essere sopraffatto dagli eventi. Cancro. Oggi il tuo focus sarà su denaro, flusso di cassa e proprietà. Molti di voi non vedranno l'ora di fare shopping. La tua moderazione ti permetterà di affrontare i dubbi delle persone intorno a te. Il rapporto con il tuo partner viene sotto il segno dell'armonia e della tenerezza. Questo è un buon momento per continuare con i colloqui in sospeso. Dovresti procedere con cura e tatto. Dovresti prenderti il tempo prima di reagire alle cose e funzionerà. Già quando ti svegli questa mattina molto probabilmente sentirai che devi cambiare qualcosa nella tua vita. È il tipo di giornata in cui, gemelli, in piedi davanti allo specchio del bagno, dovrai prendere grandi decisioni, metterti a dieta, andare in palestra. In breve, prenditi molta più cura del tuo corpo. Ma per andare più veloce, sai già che puoi anche cambiare vestiti o fare un buon massaggio. Tutto andrà bene per farti sentire meglio con te stesso o per sedurre qualcuno. Leone. Il tempo si è fermato nella tua vita amorosa. Forse hai recentemente litigato con la tua ragazza. Forse è perché hai opinioni diverse sulle prossime scadenze da rispettare. Leone, non dovresti vivere la situazione come un dramma. In fondo, sapete benissimo che condividete molte cose. Quindi oggi dovresti moderare la tua reazione e prendere l'iniziativa di avere una buona conversazione tra adulti responsabili. Sai come esprimere le tue aspettative e desideri in modo chiaro e preciso. Dovresti stare attento e assicurarti che nessuno si senta obbligato a stare in guardia. Quando vuoi, puoi avere molto tatto. Il tempo potrebbe essere teso sul fronte della tua relazione. Troverai un terreno comune, quindi dovresti iniziare a pensare. Le circostanze sono un motivo per tenere separata la tua vita privata. Leone, non permettere a nessuno di mediare tra te e il tuo partner. Vergine. Oggi ti vedrai raccogliere i frutti dopo un lungo periodo di gestazione. Si trattava di realizzare le cose e quindi risolvere vecchi problemi relativi al tuo bisogno di riconoscimento sociale. Non cercare tanto l'approvazione, amica vergine, poiché è l'unico modo per contattare il nucleo della tua forza. Sei il padre dell'uzzodiaco e quindi hai bisogno di un genitore in meno degli altri. Ci sono buone probabilità che tu voglia mantenere un basso profilo oggi. Nel frattempo, altre influenze ti incoraggiano a sciattare e goderti la reciproca compagnia e sfuggire alla follia a casa. Tuttavia, la solitudine sarà l'ideale. Ti sentirai più a tuo agio a pensare profondamente alle tue speranze e ai tuoi sogni. Vergine. Ci sono cose che dovresti guardare da vicino nella tua vita amorosa. Se vuoi superare le tue paure e dissipare quelle del tuo partner, oggi puoi concentrarti su di loro. Bilancia. Oggi è un buongiorno per fare il punto sulla tua vita amorosa. Se le cose non stanno andando bene in questo momento, è tempo per te di prendere in mano la situazione. Bilancia. Non dovresti rimpiangere di più mentre aspetti giorni migliori, dovresti apportare le modifiche. Se vivete in coppia, dovreste cercare di comunicare meglio e mettere in comune i due ambiziosi progetti. Anche se le cose si evolvono lentamente, questo primo passo aumenterà il tuo morale. Un affare di famiglia potrebbe causare alcuni problemi, quindi dovrai trovare un modo per rendere felici entrambe le parti. Forse è il momento per te di affrontare il problema in modo più diretto in modo da poterlo risolvere una volta per tutte. Avrai risposte inaspettate a domande che aspettavi da molto tempo. Bilancia. Hai messo nuovo entusiasmo nella tua vita amorosa. Oggi potrebbe succedere di tutto. L'audacia sarebbe una qualità utile. Scorpione. Una parte importante della tua personalità è la tua potente aura. Sai come parlare con le persone e trovare i loro punti. La tua percezione sarà enfatizzata oggi e migliorerà il modo in cui ti avvicini alle altre persone. Scorpione. Stai per schiacciare un dubbio che permetterà alla tua vita amorosa di avanzare in modo positivo. Parla del problema e sarai soddisfatto di te stesso per averlo superato o per averlo superato dal tuo partner. Sagittario. Oggi vuoi spiegare le ali ed espandere la tua esperienza di vita. In un mondo ideale, ti piacerebbe viaggiare. Tuttavia, i problemi legati al Covid-19 sono imprevedibili e dovresti tenerne conto. I piani di viaggio possono essere cancellati o modificati. La tua libido è alta e il tuo partner ne godrà. Sagittario. Sei pronto a trascorrere l'oggi con tenerezza e intimità e nessuno potrà fermarti. Dedicherai del tempo al tuo partner, che dovrebbe piacere a entrambi. Capricorno. Tenaci e determinati, oggi saprai difendere i tuoi interessi. Queste qualità saranno unite da un certo senso di fiducia nella vita. Non ti piace essere in un territorio inesplorato, ma puoi goderti un'avventura se ne salta fuori una. Il fine giustifica i mezzi. Avrai l'opportunità di applicare questo detto ai tuoi interessi, senza danneggiare nessuno. Riceverai buone notizie. Capricorno. Il tuo umore sarà decisivo per raggiungere i tuoi obiettivi, quindi dovresti incoraggiarti. Acquario. Oggi puoi essere più severo e diretto con gli altri. La luna infonderà in te un senso di prudenza. Metterai in discussione e sfiderai il tuo modo di fare le cose, affermando idee più convenzionali che chiunque può capire. Saprai come adattarti. Acquario. Le tue intense emozioni ti impediranno di ragionare logicamente. Salva le discussioni importanti per un'altra volta. Dovresti assicurarti di non rimanere invischiato dai bisogni degli altri, poiché ciò funzionerebbe contro di te. Pensa prima di essere coinvolto. Pesci. Sarai felice di fare qualcosa per farti sentire meglio organizzato e più al top. Pesci. Dovresti fare il possibile per raggiungerlo. Un giove espansivo sta rendendo le cose più facili per l'interazione intima con il tuo partner. Ora è il momento di rafforzare la vicinanza della tua relazione. Qualcuno vicino a te potrebbe aprire gli occhi per vedere cosa stai facendo di sbagliato nella tua relazione. Dovresti prendere sul serio il problema e prestare maggiore attenzione al punto di vista del tuo partner.